Ciao a tutti, sono Valentina Lamartina e lavoro per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in particolare per la sezione di Milano. Perché partecipiamo alla Civil Week? Partecipiamo a questa iniziativa perché dà la possibilità alla nostra comunità di mettersi al centro e dà la possibilità alle tante realtà associative di condividere le buone pratiche di solidarietà. In che modo partecipiamo a questa iniziativa? Attraverso il nostro laboratorio di sensibilizzazione Senti come mi sento sul tema della sclerosi multipla. E per raccontarvi un po' di questa iniziativa, di questo nostro laboratorio, lascio la parola alla volontaria Linda. Il laboratorio Senti come mi sento è un laboratorio esperienziale dove appunto vengono fatti sentire, provati i sintomi, anche quelli invisibili, soprattutto quelli della sclerosi multipla. È un laboratorio appunto per diffondere, sensibilizzare, far conoscere una patologia molto particolare che a volte non è visibile, i cui sintomi però noi li viviamo e li sentiamo sulla nostra pelle. Una parte del laboratorio, la parte finale è dedicata alle testimonianze dove appunto le persone che hanno fatto questo laboratorio e che magari non conoscono neanche la patologia, vivono sulla propria pelle quello che noi normalmente sentiamo ogni giorno. Molto spesso la persona crede che la sclerosi multipla interessi solo la parte motoria, quindi chi ha la sclerosi multipla ha un problema a livello delle gambe, cosa non vera perché in questo laboratorio ha potuto sperimentare il fatto che esistono dei sintomi invisibili, che non significa solo perché uno li vede che non esistano. E noi portiamo questo laboratorio soprattutto negli ultimi anni nelle aziende con l'obiettivo di sensibilizzare i dipendenti rispetto a un tema così delicato come la sclerosi multipla, però anche per aprire un po' la loro visione rispetto al tema della disabilità.